Siamo nella zona dell'antistadio a Montevarchi da mercoledì 24 aprile a mercoledì 1 maggio. Questa parte della città si animerà della fiera che è diventata un culto nel territorio valdarnese. Parliamo di Val d'Europa che torna dopo 10 anni di fermo. Una manifestazione, una kermesse che quest'anno ha una sua filosofia, dedicata alle nuove energie che possono ridare slancio all'economia della zona. 70 gli imprenditori che hanno aderito alla manifestazione e che con entusiasmo vogliono recuperare quella forza che il territorio valdarnese ha sempre avuto in tema di economia. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione con il capostipite di questa kermesse, Armando Mansueto. 70 aziende espositrici, quindi un grande successo in questi momenti di crisi. Sono degli eroi con molto coraggio, quindi c'è veramente una vampata di ottimismo nell'economia valdarnese che vogliamo far vedere con Val d'Europa. Quindi Val d'Europa non si fermerà con il 2013, tornerà anche nel 2014? Beh, è stata fatta l'associazione proprio perché Val d'Europa non è più legata solo a me, ma è legata a questi 70 imprenditori che hanno fatto partire questa associazione, quindi ritornerà ogni anno, ritornerà non solo per quanto riguarda la fiera, ma anche per quanto riguarda un discorso sociale, economico e culturale dell'area. Quindi Val d'Europa quest'anno mette in sinergia la cultura, lo spettacolo, ma anche le nuove economie. Quindi è un grande, un grande, sottolineo, appuntamento che ci permetterà come Val d'Europa, ma io credo anche come provincia di Arezzo, di avere un grande luogo di esposizione di queste nuove imprese, di questo modo anche diverso di fare imprese di attività economica. Proporre ai piccoli imprenditori locali e ai cittadini il superamento attuale della crisi con l'inizio di una ripartenza qualitativa e sostenibile dei prodotti, e questa è la filosofia di Val d'Europa, ma anche quella di essere l'interfaccia tra gli esperti e i cittadini e focalizzare l'interesse degli enti istituzionali di quello che è il patrimonio economico di questa parte della Toscana. Grazie a tutti.